buongiorno ragazzi sono qui il vostro iris ne meo che vi parla è da giorni che io vengo qui ad esaminare la situazione questo è il retro dell'ospedale di padova qui ci sono i barracconi della protezione civile e qui dovrebbero arrivare persone su persone persone malati su malati cov invece è da giorni che tutto tace che non arriva un cavolo di nessuno che nessuno muore che non ci sono problemi non ci sono discorsi allora io dico ma se qui è tutto deserto nessuno muore più nessuno arriva da dove li tirano fuori i numeri le cifre perché basta basta guardare ragazzi guardare non sta più succedendo niente non ci si muove non ci sono ambulanze non c'è un cazzo di niente eppure le per continuano a dire ai morti i morti ma allora scusate se di morti non ce ne sono più se qui dentro la protezione civile dove dovrebbero essere pieni straripanti non c'è più neanche l'emergenza sanitaria non ci sono neanche più i morti 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 e allora perché vanno avanti a dire questo perché vanno avanti a dire che che ne stanno arrivando migliaia che stanno morendo in migliaia che ci sono le emergenze sulle emergenze vedete non c'è nessuno tutto tace tutto in silenzio eppure si va avanti a dire no no i morti migliaia di morti le emergenze sanitarie i casini sui casini ma ragazzi ma ci svegliamo fuori allora detto questo riprendiamo aspetta che mi giro ecco